Sì, è una di quelle giornate in cui appunto disemina, in cui si traccia un percorso, questo percorso oggi passa da un importante protocollo che il Comune di Massafra sottoscrive con Eni, i referenti nazionali e locali della ente idrocarburi erano qui a Massafra per condividere una strada insieme che è una strada che porta a un'economia circolare. In sostanza realizzeremo un altro tratto del nostro territorio che è esattamente via Rossini utilizzando una tecnologia innovativa che sostanzialmente introduce invece in luogo del tradizionale asfalto il polverino ottenuto dalla triturazione dei pneumatici fuori uso. Questo anche grazie alla collaborazione con la locale azienda Iricom che donerà nuovamente, come fatto nel 2017, il materiale e grazie alla tecnologia sperimentale di Eni che collabora con l'Università di Parma, con il Politecnico, il Dipartimento di Ingegneria e di Architettura di Parma. Quindi siamo orgogliosi di aver continuato questo percorso di economia circolare mettendo insieme sia una filiera istituzionale, perché oggi a Massafra era presente l'assessore regionale Borracino, il presidente della provincia e il sottoscritto per condividere questo percorso, più i referenti della raffineria Eni locali e quelli referenti nazionali. Quindi sicuramente è un percorso da continuare alla luce del fatto che proprio questo concetto di economia circolare è un concetto da coltivare soprattutto per i più giovani che devono cominciare a credere sempre di più nella possibilità di sviluppare progetti innovativi per il futuro che siano in linea con il riuso, con la tutela della salute e con la tutela dell'ambiente.